ciao a tutti oggi prepareremo il liquore pocket coffee il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti ingredienti sono acqua zucchero panna caffè cacao amaro e alcol diamo il via alla ricetta iniziamo mettendo nel boccale lo zucchero l'acqua e azioniamo il bimbi per 12 minuti 100 gradi velocità 2 adesso aggiungere la panna e amalgamare per un minuto 100 gradi velocità 2 adesso aggiungere il caffè il cacao e amalgamare per due minuti a velocità 4 adesso lasciamo raffreddare completamente il composto all'interno del boccale adesso che il composto si è raffreddato aggiungere l'alcol e amalgamare per un minuto a velocità 2 il nostro liquore pocket coffee è pronto andiamolo a trasferire in una bottiglia liquore pocket coffee si conserva in frigo per 2-3 mesi o in freezer per 6 mesi grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti